Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dentro al negozio... rock! C'è il quanto! Eccoci qua come ogni tanto capita qua dentro la baracchetta dell'amico Giacomo, siamo tutta una combriccola per la solita puntata delle domande e risposte che ci fate tramite Instagram, quando apro una storia poi voi fate le domandine, io scelgo quelle un pochino più coerenti, più che altro quelle di cui abbiamo gli orologi, perché altrimenti poi dopo, vero, dico, eh? Con le piccanti! Poi abbiamo qua l'amico Giacomo, naturalmente che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici, abbiamo un amico Piero che purtroppo è presente anche lui e deve assorbirevi mentre lui legge le domande mentre si arrampica sulla salita, perché d'altronde è quello che è. E poi abbiamo i due ospiti che Gianni e Roberto e Pinotto, Riccardo e Francesco, ecco che sono i due iscritti al canale che abbiamo come ospiti oggi, purtroppo il canale passa questo di più, non è che c'è, possiamo vedere. Cosa dici Piero, iniziamo con le domande? Sì, sì, allora, Gaetano, avete in negozio qualche modello fuori produzione? Siete grandi? Certo che sì, abbiamo i Longin Skin Diver, eccoli qua, guarda, sono anche messi tutti e due sulle dieci e un quarto, proprio senza, il marketing qua vola, eh ragazzi? No, è passato la vista e l'altro. Insomma, questi qua sono gli ultimi due modelli dei Longin Skin Diver che esistono in commercio qua, cioè hai fatto una incetta a te per prenderli appositamente. Sì, no, sono riusciti a trovarli presso la Longin Svizzera, ne sono fatti mandare, perché effettivamente è un onologio che è non solo molto bello, ma finché era in produzione era anche un onologio che aveva avuto un buon successo. Eccoli qua, gli ultimi due modelli fuori produzione ci sono, due Longin Skin Diver, vai Piero. Stefano, ciao a tutti, soprattutto l'amico Piero, volevo sapere come funziona il contratto di fornitura dei marchi. Ah, io non lo so. Allora, praticamente come funziona? Prima di tutto, quando troviamo l'interesse verso un marchio, dobbiamo contattare l'azienda. Intanto bisogna, ci vuole un rapporto reciproco, il nostro interesse, ma anche l'interesse da parte della casa madre nell'aprire un nuovo concessionario, così che viene fatta un'analisi da parte loro, se siamo idonei al tipo di marchio richiesto. La seconda cosa, ovviamente una volta autorizzati all'apertura, bisogna fare un acquisto, che si chiama impianto. L'impianto consiste nel comprare un tot di orologi, poi a secondo il livello del marchio può variare il numero e il valore da acquistare, ma solitamente dalla casa madre viene richiesto l'acquisto spalmato su un po' tutte le famiglie che fanno parte del marchio. Questo per essere più rappresentativi del marchio stesso. Questo è quanto. Bravo. Aspetta un secondo, Piero, perché mi sono dimenticato di fare una cosa, che devo fare un saluto. Allora... Perché te lo sei iscritto? Perché se no non mi ricordo, mi ricordo i nomi loro che si sono presentati prima, mi ricordo... Perché saluto, non hai fatto col cuore? Ho fatto col cuore. Un auguri di buon compleanno ad Alessandro, che il primo febbraio compie gli anni e che a settembre diventerà genitore, assieme a Cristina, che è poi la fautrice della richiesta. Auguri! 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 E figli maschi. Niccolo, con due C. Ciao, un saluto a tutti e tre. Si potrebbe vedere qualche hublò? Grazie. Ce l'abbiamo. Purtroppo ce li abbiamo. Ah, gli hublò. 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 Si pronuncia hublò. Sì, ho fatto una selezione, ho preso due orologi abbastanza classici, fanno parte della linea Classic Fusion, nello specifico uno è un crono a 42 mm e uno è un solo tempo da 42 mm. Sono orologi che poi vengono declinati in tante varianti e colorazioni diverse, sia nella cassa che nel quadrante. Però ecco, io vi ho preso due modelli analoghi, uno crono e uno solo tempo, proprio per farvi vedere un po' le differenze. Questo qua è una classica situazione nella quale lo hublò qua a solo tempo sicuramente è un sellita dentro, vero? Sì. Nella quale il calibro non fa il prezzo perché sono orologi costosi con un calibro di fornitura. D'altronde... Sì, c'è da dire che poi il calibro viene totalmente rielaborato da loro e sicché ecco, c'è un intervento successivo da parte di hublò sul calibro. Invece il cronografo non lo so che calibro c'è dentro, perché potrebbe esserci anche quello proprietario, non lo so. No, no. Anche se qua è sellita. Sì. Classic Fusion sono tutti sellita. Siete contenti adesso che abbiamo fatto vedere... Cassa titanio, cinturino, ovviamente in silicone, la particolarità è questo cinturino che va a scomparire all'interno della cassa. Così erano le prime versioni degli anni Ottanta, quelli che ricordiamo gli MDM fatti dalla società MDM. Perché in realtà Hublò prima era proprio MDM, Hublò era un modello. Sì, sì. Cioè era la MDM che era la cassa distributrice che aveva creato questo brand. Che poi è diventato un marchio a sé stante come conosciamo oggi. Remo, Davide, compreresti un Villervetta Heritage al posto di un Tissot Heritage 1938? Sembra che l'abbiamo dimostrato nei fatti, nel senso che secondo me è meglio l'Heritage 1938. COSC, un bell'orologio, come si deve, vetro a zaffero al posto del... Questo qua non è l'Heritage, questo qua è... Ah, l'Heritage questo, sì. Da Tissot. Eh sì, questo qua è l'Heritage da Tissot, eccolo qua. Questo qua è un bello orologio. Vetro a zaffero, certificato COSC, cronometro con calibro ETA 2824, eh? Mentre il Heritage della Villervetta ha il vetro minerale, il SELITES V200, no? Però io preferisco come forma, preferisco il Villervetta, mi piace di più. Voi che comprereste? Tissot Heritage o Villervetta? Tissot. Ok. Ma vi pagati il suo, voglio altro. Vabbè, dai, io preferisco... Cioè, mi piace di più, è uno di quei casi nel quale, dico, a discapito delle caratteristiche tecniche, mi piace più esteticamente questo qua e quindi andare per tutto. Facciamo vedere una cosa che secondo me è più interessante di tutto. Ah, già, profilo. Facciamo vedere in sezione l'orologio. Sì. Mettili a parte sopra anche l'altro. Vediamo se riusciamo a fare in due una composizione. Eccola lì. Come vedete il Villervetta è un'orologio anche come spessore molto, molto più sottile. Monta un SELITES V200, però sono riusciti a fare un lavoro di spessore veramente incredibile. Certo, le finiture del Tissot sono migliori, guarda qua, si vede, questo qua è tutto lucido, ci vuole poco a farlo. Però mi piace più il Villervetta, ragazzi, poco... Vabbè, passo la prossima domanda a Riccardo, la facciamo fare a lui, vediamo se sa leggere come leggo io. Sarà dura. Vai. Luca, complimenti a tutti, come procede il marchio Armand Nicolè? Comincia ad avere attrazione da parte di appassionati dell'orologeria? Siete grandi. Armand Nicolè si dice, ha detto giusto? Ha detto giusto allora. Perfetto, perfetto. Deve rispondere a te. Allora, il marchio è andato bene, abbiamo venduto qualche famiglia. è andata meglio rispetto ad altre e devo dire la verità, mi aspettavo, vedendo il prodotto, com'è rifinito, le fasce prezzo e tutto, un lavoro migliore rispetto a quello che è stato sviluppato. Ovviamente le analisi da fare sono tante e difficili, dobbiamo anche capire se ovviamente il cliente non ha recepito bene la tipologia del prodotto oppure preferisce, ma è andata magari, visto la grande offerta che c'è nel mondo dell'orologeria, dare priorità ad altri brand piuttosto che a quello. Ovviamente per noi è un marchio interessante, continuiamo a lavorarci sopra e a presentarvi le novità. Thomas, ciao a tutti, vorrei vedere se fosse possibile il rato di Astar con quadrante nero al polso. Grande Piero. Bravo, lui gli piace come è, lui gli piace. Si inventa anche le frasi finali. E questo è un quadrante grigio con due toni diversi, gli ho preso quello, poi esiste anche la variante tutta nera. Sì, questo qua è praticamente questo qua quadrante grigio invece di quello che chiede lui è tutto nero. Tutto nero, sì. Va bene, comunque ci siamo quasi come stile, come l'abbiamo già fatto a vedere anche in passato questo qua. Sì, 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 tra l'altro questa è la nuova versione con la cassa più magra, prima erano un pochino più abbondanti di Astar, poi spero che non tu ti riferissi a quello precedente come modello. Noi ti facciamo vedere l'ultimo perché è quello più attualizzato. La cassa in ceramica, no? Tungsteno. Tungsteno? Sì. E ora se lo facciamo, proviamo. Lo proviamo al polso così sono tutti contenti, lo sapevoli. È una tipicità del marchio Siamo, si odia, cioè non esiste una via di mezzo, ci faccio l'occhio, oppure no. Sono roggi della Rado che mi facciamo morire. Sì, però diciamo che quelli a cui ti riferisci te sono dei Rado che dirazzano un po' dalla vera identità del marchio. Te ti rifiace a Capitan Cook e il Giorno de Nords. Sì, bravo. E le potremmo definire in non Rado, perché comunque sia sono ripresi sì da collezioni degli anni 60, però la Rado, diciamo negli ultimi anni, si è distinta per la produzione delle ceramiche, più che altro si è distinta per l'innovazione sui materiali, la ricerca e le ceramiche. Te parli da esperto e parlo da... Sì, no, 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 capisco, capisco, però secondo me se si compra un Rado bisognerebbe avere anche un po' la volontà di osare un pochino nell'acquisto. Vuoi che ne pensate? Piace Rado come il marchio? Io concordo con lui. Ok, Piero. Sì, sono un po' impegnativi anch'io. Eh sì, devo ancora accettare. Ma infatti capisco che nelle versioni più particolari, soprattutto nelle ceramiche, abbiano un pubblico più raccolto. Comunque il marchio è interessante, secondo me si differenzia da quello che è un po' il panorama dell'orologeria del momento. Antonio, ciao, sarebbe possibile una... Antonio, ciao, sarebbe possibile una prova al polso del Seiko Prospex, referenza SPB 315 o una con cassa salinare, similare, scusate. Grazie, un saluto a tutti, in particolare alla star del canale, Piero. Grazie amici. Eccolo qua. Ma allora, è una tartole magra perché a differenza della tartole questa arriva da un periodo precedente, si chiama una cassa un po' revival, però con la stessa forma spanciata, tipica ovviamente degli orologi anni 60. Quindi lo vuole vedere al polso, e noi glielo facciamo vedere al polso, no? Se non ho... Altanto non ci riesco a chiudere, inutile. Ci sono riusciti. Ovviamente a differenza della classica tartole, è anche molto più piccola a livello di diametro, è una 40 mm, sì che si porta molto meglio. Eh no, sta buona vero, è un po' questo questo. No, questo è un bellissimo orologio. Sì, 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 sì. Dai, quanto costerebbe questo simpatico orologio? Ma neanche poi tanto. 1200. Lorenzo, ciao, saluti a tutti voi. Potrei vedere la prova al polso dell'Hedox Skydiver braccialato da 38? Grazie mille e complimenti. Oh, ce l'abbiamo blu qua. Blu. C'è anche nero. Come? C'è anche nero. Sì, no, vabbè. Abbiamo preso quello blu che è un pochino più particolare, gli Skydiver neri se ne può più, no? Ormai. Oh, eccolo qua il polso. 38 mm. Io dico che 38 per me sono piccoli, ma in questo caso ve lo vedo bene. Sì, abbastanza bene. Ma che bello sottile. Dai, un classico Skydiver che nella versione blu sembra qualcosa di un pochino differente. Bracciale differente dal solito, chicchi di riso, spessore decente, calibro e servite SV200, anzi no, forse qua c'è l'altra 28-24, no, servite SV200. 200 metri, eccolo qua. Sì, stiamo facendo un po' di promo in questo mese. Ho nella sezione offerte alcuni orologi, non ci sarà nello specifico la versione braccialata, ma ci saranno le versioni in pelle perché hanno colori un pochino più particolari. Se volete potete dare un'occhiata, poi se volete informazioni sul prezzo ci potete contattare, vi forniremo di tutte le specifiche. Grande. Imer, buongiorno a tutti, è possibile vedere Hamilton Intramati Crono con quadrante verde e blu? Saluti a Davide, l'amico Piero e un buon Giacomo. Oh, abbiamo quello con quadrante blu. Eh sì, perché giustamente l'amico qua dice che vanno sempre di moda, si prendono sempre in considerazione quello Panda e quello Reverse Panda, come ho io, sia la carica manuale che la carica automatica. Questo qua è automatico perché c'è la festa adatta, non si sbaglia. Ma ha ragione, ha ragione perché ormai il Panda sta, che poi dopo diventando poi una moda tutte le aziende si allineano con quella tipologia lì di quadranti e poi dopo sembra di presentare gli stessi orologi su tutti i brand. Almeno variamo un pochino e ci rifacciamo un po' gli occhi. Sì, ha senso, cioè si può chiamare Reverse Panda anche questo perché è semplicemente cambio. Io il Panda blu non l'ho mai visti, se in casa tua ci sono io il Panda blu non l'ho mai visti. Però lo stile è quello, il contrasto, no? Vabbè, è un gioco più, dai, prossimo. Daniele, ciao, si potrebbe vedere il nuovo Quervo e Sobrinos Asturias con calibro Legio Pere, un saluto dal Montenegro, siete grandi. Eh, dal Montenegro, che spettacolo. L'amaro, l'amaro, come usare? No, 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 è bello Montenegro. Eccolo qua, praticamente le GPR G100, sono i nuovi calibri che incassa Quervo e Sobrinos, il luogo dei Peuse che incassava prima. Praticamente altri non è che la versione svizzera del Miota serie 9000, eh? Un bel calibro, qua è rifinito bene dal Legio Pere che fa parte del gruppo Citizen e mette a disposizione. È un calibro di fornitura, chi vuole lo può avere, anche i microbrand lo utilizzano, no? Eccolo qua. Questo qua è il Quervo e Sobrinos Historiador Asturia, nella sua versione quadrante verde, verde soleil. Ci piace tanto. Nuovi calibri per il Quervo e Sobrinos. Francesco, lo ZRC Heritage da 39, nero, versione con quadrante e nodata, con i numeri, con i quattro numeri arabi, è disponibile? Si può vedere al polso? Grazie. Non c'è, il nodata non c'è, abbiamo queste due versioni qua con la data sul quadrante, con la ghiera Pepsi, che sono un pochino più particolari, quelli colorati così, perché sinceramente a me piace più il nero, il sobrio mi piace maggiormente. Chiaramente se uno desiderasse quello nodata si può ordinare, arriva, no? Sì, sì, arriva, come è calcolato, un massimo di 15 giorni per averlo a casa e lo possiamo ordinare senza problemi. Comunque sia, noi ora stiamo già rifacendo tutti gli ordini per quest'anno, stiamo andando ad inserire ovviamente le referenze mancanti, non di tutto, però quelle e le alto vendenti sicuramente andranno rimpiazzate. Belli, belli assai, eh? Data o nodata, a me mi piacciono in entrambi i modi. Davide, ciao ragazzi, domanda volutamente provocatoria. Davide, è un caso che Iema ha iniziato a piacerti quando Giacomo è diventato concessionario? Prima invece era quella che faceva le cose strane, tipo fare pagare meno il calibro in house rispetto a quello di fornitura? No, no, è un caso perché io in realtà il primo Iema l'ho recensito, è lì, è sul canale, nel settembre del 22. Quindi me lo mandò la casa, Iema mi mandò l'orologio e io accettai, nonostante fino a quel momento avessi rifiutato sempre, accettai proprio perché ero arrivato a un punto durante il mio percorso di informazione nel quale non avevo trovato nessuna prova, nessuna prova tangibile che ci fosse qualcosa di sbagliato. E il punto è sempre quello, cioè i loro calibri in house, gli orologi con il calibri in house, costano meno di quelli di fornitura. Ho visto poi anche dei video dei miei colleghi nei quali vanno in visita a Iema, c'è veramente una sede, una struttura che giustifica il fatto che realizzino calibri in house. Se poi, voglio dire, le Bush le prendono direttamente dalla Cina o dall'Asia, come fanno in tanti, e quello è un altro discorso, è per quello che costano meno. Quindi, tornando al succo della domanda, sì, hai pensato male, sei stato malizioso, perché Giacomo li ha presi qualche mese dopo la mia recensione, quando io avevo già sdoganato, mi ero già ricreduto su Iema. C'è anche da dire che c'è nel mentre stato un passaggio, ovviamente, di direzione proprio in Iema, perché stanno diminuendo sempre di più i calibri di sellita all'interno degli orologi, e stanno aumentando sempre di più invece i calibri 2000 che sono quelli di loro produzione. Sì che c'è una volontà da parte di Iema, in un breve futuro, di eliminare totalmente i calibri sellita e di usare solo quelli in house. Arriveremo a un certo punto che non si noterà più questa differenza tra il doppio calibro, perché è stata dichiarata direttamente da loro la volontà di montare solo la loro meccanica. Paolo, ciao Davide, Giacomo e Super Piero, vorrei sapere se quando si ripone per giorni un orologio è essenziale estrarre la corona di carica, o se non serve assolutamente a nulla, grazie. Allora dipende, secondo me dipende, innanzitutto dal quarzo a meccanico. In un quarzo ha una funzione, cioè stacchi la batteria dal circuito, quindi preservi la batteria, quello può avere un senso. In un meccanico secondo me no, perché la corona aperta, va bene che ci sono le guarnizioni e non succede niente, però è un punto di entrata di umidità, di polvere in più. E inoltre, secondo me, secondo il mio parere, non è che è scienza, un orologio è bene fargli scaricare la molla di carica fino alla fine, cioè rimane lì inerte, piuttosto che aprire la corona e lasciare la molla di carica in tensione, rimane in tensione ferma lì per tanto tempo. Secondo me è così, poi che cambia poco cambia nulla, i discorsi sono quelli. La verità è che gli orologi più camminano, più funzionano, meglio è. Fa peggio un orologio rimanere fermo che stare in movimento, perché più rimane fermo ovviamente più tendono a depositarsi i lubrificanti all'interno, invece lavorando stanno sempre in movimento e rimangono sempre belli fluidi. Logico, se si parla di riporlo per qualche giorno, dove ovviamente ci sono riserve di cariche anche limitate, lui funzionerà per circa un giorno, un giorno e mezzo, poi lo troverete fermo. Se si tratta poi invece di lasciarlo fermo per molto tempo, si parla anche di mesi o addirittura anni, il consiglio è ogni tanto andare dove l'avete riposto e muoverlo, perché come vi ho ripetuto prima, è sempre meglio tenere una meccanica in movimento che ferma. Matteo, cosa ne pensate di Hublot? Sta perdendo quote di mercato o lo vedete in crescita? Hublot? Hublot sta perdendo quote di mercato? Allora bisogna fare un'analisi che è molto più ampia. Negli ultimi mesi l'orologeria di lusso, ovviamente con l'orologeria di lusso si intende anche l'orologeria che ha un prezzo di listino molto alto, ha subito un rallentamento non a livello italiano ma a livello globale. Questo è dovuto un pochino a varie crisi economiche che ci sono state, ma ha un sistema che, lo uso questo nome, che è partito un po' come fenomeno con il marchio Rolex, dove si pensava che l'orologeria fosse sì una forma di investimento, ma una forma di investimento a stretto giro di tempo. Questo che cosa vuol dire? Che l'orologio si potesse rivalutare in un periodo molto corto, mesi e addirittura entro l'anno. Non è così. L'orologeria può essere una buona forma di investimento, ma va lasciata maturare. Quello che si era verificato col fenomeno Rolex e altri marchi che sono andati dietro, che poi si è allargato un po' a macchia d'olio su tutti i brand dell'orologeria di lusso, era solo esclusivamente un fenomeno di speculazione. Di conseguenza, Hublot, facendo parte effettivamente di un marchio di lusso, negli ultimi tempi ha subito un piccolo rallentamento. È un rallentamento, come vi ho detto, globale. Parlando specificatamente di Hublot, è un marchio che segue dinamiche leggermente diverse da tutta l'orologeria del lusso, ovvero non lavora prettamente sulle meccaniche, ma lavora su una sua parte estetica. Lavora più che altro sull'innovazione dei materiali, delle casse, dei quadranti, sviluppa ovviamente collaborazioni sempre nuove, anche con il mondo ovviamente della televisione, del business, delle squadre di calcio, attori sportivi, tutta una serie di dinamiche che lo posizionano in una posizione un po' trasversale rispetto a quella della classica orologeria, che invece lavora di più sulla tradizione, sulla parte meccanica del prodotto. Sicché è normale che un prodotto che vive più di marketing che di tecnica meccanica, in un momento dove l'orologeria ha un piccolo contraccolpo, soffra un pochino di più. Comunque sia un marchio che c'è da tanti anni, che fa parte ovviamente del panorama dell'orologeria, della buona orologeria mondiale, sicché assolutamente non sparirà. Le oscillazioni di mercato ci sono sempre state. Oh, meno male. Santa Maria Vergine. Alberto, ciao Grande Piero e i tuoi assistenti. È possibile vedere come vesta al polso il tuo team a Saxon 1M? Grazie mille. No, non è possibile. Come no, è l'unico che c'è. Ah, eccolo qua. E' questo qua? A vero. No, non si apre, non lo facciamo vedere. Non lo facciamo vedere? Non lo sa aprire, è diverso però, ci piace così il dato. Oh, eccolo qua. Questo qua non l'ho mai nemmeno recensito, questo qua. Eh, simpatico. Eh, è il classico orologio tedesco, lo vedete che è sobrio, no? Sellita SV200 sicuramente, no? Sì. 10 atmosfere di impermeabilità, eccolo qua. I pulsanti, però... Ah, quello è bellissimo. Vedete qua sono le relazioni che non... Eh? Abbiamo i video, abbiamo i video. E vorrei la vava tagliata, la parte che mi fa. Eccolo qua, il cronografo, questo qua è un simpatico cronografo, che ha la particolarità di avere i pulsanti start e stop che sono integrati alla cassa. Ecco lì, io non li trovavo l'altra volta, quindi mi prendono un giro, ma... È perché non ci vedo bene, capito? Tutto lì il problema. Simpatico, dai, un po', insomma, presente al pulso, eh? Sì. Dai, bell'orologio. Però, polso permettendo, a me l'orologio un po' abbondante piace, eh? Ugo, quanti marchi avete nel negozio? Più di 30, non mi ricordo effettivamente più quanti, però più di 30, andiamo per i 35. Poi ogni tanto qualcuno entra, qualcuno esce, a volte per scelte nostre, a volte non direttamente per scelte nostre, poi cerchiamo sempre ovviamente di inserire durante l'anno qualcosa di nuovo, anche per ovviamente dare da parlare un po' a Davide, se no poi si perde un po' così nel nulla. Mirko da Civitavecchia, ciao Davide, Giacomo e all'amico Piero, confronto tra Doxa Sub 300T e Oris Aquis 41mm, ciao a tutti e soprattutto a Piero. Allora, 300T e poi ovviamente di 41 devono arrivare, però vi faccio vedere questa versione, un pochino più ricca, perché ha la lunetta. Ma è da 41 questo? È da 41,5. Sì, va bene, quello lì. Sì, 41,5, calibro ovviamente di manifattura, in quel modello lì, è un pochino impreziosito dalla lunetta in oro 18 carati. Eccolo qua, il confronto è questo qua, sono due orologi completamente diversi, quindi che minchia di confronto vuoi che facciamo? No, cioè... Dai, trattali bene, Foll, fare così, su. Allora, fa il confronto, fa il confronto fra questi due. Uno è bello, uno è bello. Sono anche totalmente diverse. Sì, perché l'Aquis ha un lug to lug più contenuto, questo qua c'è una cassa a cuscino che mostra più acciaio, ma secondo me non è poi così differente, perché il 300 al colso sembra più piccolo di quello che è, perché c'ha questa ghiera che è veramente 38 mm. Sì, quindi nessuno delle due è successivo. Allora, però, uno è una vestibilità molto piccola, l'Aquis dovuto ovviamente alla conformazione della cassa, anzi è molto strette e corte, e il DOXA invece ha una vestibilità sempre piccola rispetto al diametro dichiarato, perché il lug to lug è cortissimo, ricordiamo che ha un 42 mm di diametro e solo un 45 mm di lug to lug, che è molto compresso come un orologio. Poi il quadrante molto piccolo lo fa sembrare ancora più ridimensionato. Comunque in due stili completamente differenti che uno proprio potrebbe averli tutti e due in collezione senza avere sovrapposizioni di prodotto. Voi quale preferite? L'ORIS. Oris. Oris Acquis, bravo. Oris Acquis, sì, effettivamente è un bel prodotto anche a livello di rifiniture, a mio parere poi si potrebbe fare in un'altra puntata un'analisi più dettagliata a quel quid in più. Michele da Cagliari, buongiorno a tutti e complimenti per il bel lavoro che fate. Volevo chiedere se era possibile vedere lo Zenith Defy Skyline Skeleton nella versione blu. Grazie in anticipo. Un buon gustaio il sardo. Bravo, bravo. C'avevamo il nero che vabbè comunque eccolo qua. Orologio che lo Zenith Defy mi piace un casino e mi piace quella versione tutta ceramica nera che abbiamo visto l'altra volta al negozio che non c'è più, vero? Eh? No, forse ce l'ho ancora, non sono sicuro perché siamo in tanti qui a vendere. Eccolo qua, questo qua è scheletrato, è scheletrato in una maniera talmente contemporanea da sembrare quasi un'opera d'arto. Io comprerei quello con il quadrante, è pieno, però ha il suo perché anche questo qua. Dai, eccolo qua, 41 mm. Se magari lo facessero 39 questo orologio qua. No, ma dai, la vestibilità dell'orologio è buona, bracciale integrato, cassa senza ansie, sì che ha una buona vestibilità allo stesso. C'hai il polso, sembri un cinghiale, vuoi l'orologio più picco. Vabbè, sono una persona fine, mi dicevo l'orologio fine. Sì, è ragione. Oh, questo amico qua è la seconda volta che fa la stessa domanda perché anche l'altra volta l'ha fatta, però ci siamo dimenticati di citarlo. Sapevi? Sì. Poi mettiamo una mano qua perché se no non si può mettere sto qua, dai. C'è tutto un cellulofanato lì. Te lo faccio vedere così. Te lo faccio vedere quasi al polso, eh? Quasi al polso. È un'orologio di forma, eh? Di quelli che... Non sono tante le case. Oris non la fa più, ve lo so? No, 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 era una capsule collection. C'è Longin che fa... Dolce Vita, Longin. E poi mi sembrava... E poi tutta una serie di quadrati, però ecco, i rettangolari non tutte le case lo fanno, è stato un po' abbandonato questa forma. E tra l'altro è molto elegante. Una tipicità ovviamente per quanto riguarda il Federico Stante è la finestra, sul quadrante che permette di vedere il bilanciere dell'orologio. Wow. Mi piacciono tanto. Mamma mia. No, scheletrati no. Open Art. Open Art, sì. Federico Costantini, non? Sì. Ah. Federico Costantini, è mio amico. Mattia da Siena. Ciao a tutti. Volevo chiedere a Davide cosa ne pensa del brand Fortis. Fortis e a Giacomo, se ci sia la possibilità di vederlo nel catalogo del negozio prima o poi. Grazie e continuate così. Eh, Fortis è un brand che a me piace molto, fa degli orologi ottimi. Io glielo dico sempre di prenderlo in concessione e lui non mi dà mai relta. Sono ottimi orologi, un po' a livello di Sien, un po' di altri, di questi tipi di tool watch. Sì, l'abbiamo valutato più volte, purtroppo la Fortis è difficile anche da contattare perché ultimamente non partecipa più alle fiere internazionali, sicché ovviamente anche per vedere il prodotto, stabilire dei contatti non è facile. L'unico ovviamente freno che ho nei confronti di Fortis è un pochino il prezzo. La Fortis in Svizzera è fallita, il tribunale svizzero perché quando falliscono i cassero regeri vengono tutte gestite da un tribunale addetto, è stata riassegnata ovviamente a una persona che ha rilevato il marchio e nella loro riproposizione del marchio hanno inserito tante collezioni nuove, tra l'altro molto belle, però se guardate bene, perché lo potete cercare sul sito ufficiale, i prezzi non sono così accessibili, sicché io già qualche volta che la visualizzo, però poi dopo non venite a dire eh però son cari, però poteva essere, perché quello è, non le facciamo noi i prezzi, le fa la casa madre. Che ti ridete. No, ridete. Giuseppe, ragazzi, com'è possibile che si parli così poco della linea Elite di Zenit? Io li trovo particolarmente riusciti nella loro estrema pulizia e semplicità, siete grandi, un abbraccio a tutti e soprattutto l'amico Piero. Sì, perché praticamente io spesso vado a vedere sul sito Zenit gli orologi, no? Perché Zenit è un marchio che merita di essere posseduto, collezionato e io penso che tu intendi a quelli a catalogo adesso, non i vintage, perché in quelli a catalogo adesso tutti i modelli sono da 40.5 mm e per i miei gusti un orologio classico così 40.5 non va bene. Ci sono anche da 36, ma sono quelli femminili con i diamantini tutti intorno, ecco facessero un 36, un 37, un 38 da uomo, anche lì ne venderebbero una marea secondo me. 40.5 non se ne sente parlare, non li vedo mai, anche nei video, non si vedono, sono un po' troppo grossi per essere così, poi magari all'estero nei mercati asiatici dove comandano. Io penso che ci siano due fattori in questo momento per cui si parli poco della linea Elite, la prima... In quel negozio l'hai visto? No, allora ti spiego perché. La collezione precedente, quella che è uscita da catalogo e sostituita da quella attuale, a mio parere era molto più bella come linea. Si sono rinnovati però come succede spesso su tante case, si sono rinnovati in peggio a livello di estetica e di conseguenza non hanno avuto il successo che devono fare. Poi la casa ovviamente si è concentrata sull'uscita di tanti prodotti che hanno avuto molto più pil e hanno lasciato un attimo da parte quel tipo di prodotto. C'è anche da dire, e questo a carattere generale, che l'orologio classico sta soffrendo in questo momento rispetto all'orologio sportivo. Cioè si vende molti più orologi sportivi che orologi classici. Di conseguenza l'azienda in questo momento non ha neanche l'obiettivo di spingere, investire molto sulla ricerca e la produzione di un prodotto che a grandi linee dal mercato è meno richiesto. Michele, ciao Davide, Giacomo e il mitico amico Piero. Perché si dà cosa poca intenzione a Uboat, che è un marco italiano? Hanno presentato parecchi modali nuovi anche con diametri più ridotti negli ultimi anni. Ma nessuno ne parla. Grazie e continuate così. Bella domanda. Perché a me non mi piacciono. Tutto lì, punto. Io non ne parlo perché non mi piacciono. Se no sai quanti non potrei parlare. E qua ci sono, quelli qua ci sono. Invece per il resto... Però sì, è vero, anche su altri canali oppure sui forum. Non è che c'è da dire che loro però il successo lo fanno per la strada, diciamo, nel mercato. Perché sì, sotto sotto. Sono famosi... Sì, lei è il contrario. Lei è messo al contrario. Perché la corona di là... Ecco, vedi perché non mi piace. Perché sono alla rovescia, sono fatti male, dai, sono sbagliati loro. Ah, non si dici che sono bellissime. No, eh, loro il successo lo fanno nel commerciale, li vendono in tutto il mondo, sono famosi in tutto il mondo, non mi risulta. Sì, ci sono mercati ovviamente che rispondono meglio, mercati che rispondono peggio. L'unica cosa che devo spezzare una lancia a favore di U-Bot è un marchio che non ha mai tradito il suo DNA. Ha sempre fatto orologi molto grandi, con un'estetica molto particolare. Non si è piegata ovviamente alle richieste di mercato, sia a grandi linee come misure, ma soprattutto con estetiche più pulite. Lui vuole essere un marchio così, molto identificativo e mantiene sempre il suo cliché. Tra l'altro quello che stai facendo vedere ora sono i Dark Moon, sono orologi un pochino particolari. giocano un pochino maggiormente su un vezzo estetico, che è questo vetro molto bombato, con dentro, sappiamo, il liquido, questo olio, che fa ancora di più questo effetto lente di ingrandimento. Però ecco, ricordiamo che all'interno del catalogo c'è poi tutta una collezione di orologi automatici, con un livello ovviamente qualitativo superiore rispetto al Dark Moon. Però, visto che hai fatto questa domanda, magari gli prepariamo una sorpresa nel futuro, dai. Io vedo che qua dietro c'è scritto Battery in inglese, quindi già questo mi dà a quanto una certa allergia. Allergia. Io lo voglio comprare, sai quello piccolino lì? Io lo voglio comprare. Battery. Allora, abbiamo l'ultima domanda, vi dico già che la fa Agostino Buono. Ciao Agostino, ciao Agostino, e lui fa sempre delle belle domande. Io voglio salutare invece Martina, la regalura da Agostino. Ciao Martino. La domanda è proprio per te. Domanda per Giacomo, con quale orologio ti sei sposato? Con quale orologio mi sono sposato? Niente, mi sono sposato in Brasile, senza neanche un capello di orologio, perché se no lì ti staccano il braccio di Netto e i furti dei Rolex italiani in confronto sono una giacchettata, sicché... Allas Vegas, non vale quel matrimonio? No, non vale. Va bene, dai, sembra che sia l'ultimo, allora facciamo i salutini finali. No, facciamo le domande di rito ai nostri amici. Ah, Giuseppe e Riccardo. Una su due. Allora, ovviamente la domanda, vogliamo sapere da voi come siete entrati nel mondo dell'orogeria, come vi siete appassionati ovviamente a questo fantastico mondo complicato, pieno ovviamente di orologi, di marche, dove Davide cerca ovviamente di fare un po' chiarezza, non ci riesce ovviamente, quello è scontato. Grazie a me. Piero è l'unico che fa luce, diteci tutto. Ma da bambino, adolescente, orologi a batteria, Casio, classico. Sì, è normale, il primo step. Per poi passare a smartwatch e poi negli ultimi anni orologi automatici. Quindi il primo regalo è stato un Rolex di mio padre, un Explorer 2, e poi mi sono appassionato io anche con i video di Davide, e adesso ne sto passando un po' io a mio padre di orologi. Ok, che orologio hai al polso? Ho un Hamilton Crono Caki. Ok, ottimo, che vedete, è partito con la buona orologeria, con un Rolex, la sua passione si sta allargando, non bisogna sempre andare poi alla ricerca di orologi sempre costosi. Lui ha fatto una scelta differente. No, ho fatto una scelta differente, ma non per questo non qualitativa, perché ricordo che si può comprare orologi di ottimo livello senza doversi indebitare a vita, e lui ha fatto una scelta, tra l'altro quello lì ha un orologio che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, vi invito anche ad andarla a cercare nei vari video e ovviamente andando a vedere la fascia-prezzo su cui è posizionato. È Francesco il veloce. Francesco! Io ho una passione per la meccanica e tutto ciò che può essere perpetuo e ci riporta indietro nel tempo, l'orologio è l'emblema di questo, di questo sentimento. Sì, sì. E lo puoi seppellire, te lo farà fuori tra 200 anni e magari funziona ancora. E cosa c'è al polso? Io al polso c'è un vecchio Seiko Presage. Oh, bravo, ma c'ha il buco sul quadrante. C'ha il buco sul quadrante. Sì, non si può vedere. E' colpa di Federico Costantino. E' colpa di Costantino. Tenti, venite qua dietro che facciamo i saluti finale. Niente, ragazzi, eccoci qua a fare il saluto finale. C'è il buon Giacomo che è titolare, io che sono titolare, poi c'è... Io anch'io titolare. Anch'io titolare. Chiaro che non conta niente. No, oggi anche loro titolare. E ci sono i due amici, Guglielmo e Giancarlo, che sono qua con noi. Guglielmo e Giancarlo. Sì. Riccardo e Francesco. Riccardo e Francesco. Niente, vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Spero vi sia piaciuto il video. E vi ricordo di appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio il più spesso possibile qui su YouTube. Love. Love. Grazie a tutti